Ed ora cambiamo argomento, l'ipoterapia nella pratica riabilitativa è questo il titolo di un convegno che si svolgerà sabato 1 aprile presso la sala convegni Palace Hotel di Cremona. Questa sera ne parliamo con la presidente dell'associazione Futura Onus, che è appunto l'associazione che organizza questo convegno, la signora Maria Pia Rosani. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Dunque, un convegno che è rivolto a chi? Allora, intanto grazie di avermi dato l'opportunità di parlare di questo appuntamento che ha uno scopo formativo, oltre che informativo, e promozionale. Formativo in quanto è un convegno i cui destinatari sono tutti coloro che lavorano nel settore della riabilitazione, dell'educazione dei bambini e ragazzi disabili. Quindi dai pediatri, medici in generale, pediatri, neuropsichiatri, psicologi, e così anche il comparto educativo, educatori e insegnanti, soprattutto di sostegno. Ecco, che tipo di disabilità beneficia appunto di questa terapia, dell'ipoterapia? L'ipoterapia ha un largo spettro di applicazione perché la terapia a mezzo del cavallo con la sua valenza terapeutica e proprio riabilitativa si rivolge a tanti tipi di disabilità. Disabilità fisiche, motorie, perché il cavallo ha questa grande dote di simulare il passo umano e quindi i bambini, i ragazzi che sono per problemi fisici appunto su una carrozzina possono provare l'emozione del camminare grazie appunto all'andatura armonica del cavallo. Poi ci sono tutte le disabilità cognitive che traggono vantaggio dall'ipoterapia in quanto il cavallo, essendo un animale molto comunicativo, con una grande empatia e slancio proprio di socializzazione, tutti i ragazzi che hanno problemi di comunicazione, come i ragazzi che soffrono di disturbi del comportamento, disturbi generalizzati del comportamento della sfera autistica, hanno la possibilità di sperimentare questi canali comunicativi proprio a mezzo del cavallo, quindi di aprirsi e far accedere ad altri al loro mondo, a volte così complicato per noi da capire. L'associazione Futura Onus lavora anche a stretto contatto con quello che è il comparto medico-sanitario? Diciamo che fin dall'inizio il Futura è nata proprio grazie all'iniziativa non solo di genitori ma anche di operatori della neuropsichiatria infantile di Cremona, per cui se lo scopo iniziale era quello di creare legami tra famiglie di ragazzi disabili per creare comunque dei legami forti a beneficio dei ragazzi, poi la spinta è stata data appunto dal dottor Cerioli che così ha attivato questa terapia che nel tempo si è rivelata proprio molto vincente dal punto di vista anche dei risultati. Quindi quello di sabato sarà un appuntamento importante per voi, per farvi ulteriormente conoscere anche se già sul territorio so che siete molto conosciuti appunto. Sì, per noi è un appuntamento molto importante anche perché verranno tre relatori, abbiamo una neuropsichiatra, una terapista della riabilitazione dell'ospedale Niguarda che è stato un punto di riferimento per tutti coloro che operano, che praticano l'ipoterapia. E quindi sarà per noi l'occasione di far conoscere a più persone possibili e soprattutto sanitari proprio questa valenza riabilitativa dell'ipoterapia. Benissimo, ringraziamo Maria Pia Rosani, presidente appunto dell'associazione Futura Onlus per essere stata con noi. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.